Il Tarrao è un luogo carico di storia, con un paesaggio e un patrimonio specifico. Su garattaro singolare della regione si ritrova di nuovo nella sua maniera di parlare. Il Tarraveso è una varietà più approdata del Zottanaggio. Di suo parlare ricco e particolare, Jean-Luc Santoni, anziano professore di lingua gorsa e di lingua italiana, ha fatto una ragolta. Se avete scritto con altri, se dicionari, un dicionario francese e l'ultimo dicionario, un dicionario per i Tiochi, una varietà di Sottanaggio, Talavese e Rocchigianese. Io ho scritto anche Sottanaggio perché quando sei studiante davanti a me, non mi sono mai d'accordo davanti a scrittura. Se sei paesani, se sei di qui, soprattutto quando ti dà i vostri naiaci, i tuoi figlioletti, pagoli in me, che finisci in me, in corso di traccia, non esiste mica. Noi di malizioni, all'azione, lodoghi, fino a in me non esiste mica. Forca per erbe stronche, se volessi sapere, tanto si, ma c'è ne siete otto mica di più. E ho aggiunto dunque, un bel gommico, perché io ho già sopportato di E, che è una forma italiana. Allora, un giorno, gli studiante, si sono arrivati a come me, che mi sono 60 anni, vuole essere semplice, più che l'altro, io ho detto, io ho detto, faccio qualcosa, che non pari, ed è così, che sono finalmente gli studiante, che mi hanno divorzato, a me, a faccio di suonare, io ho detto, non è arrivato. Parli di un valore della famiglia suprana, che si chiama anche noi, in modo che non ci si chiama la famiglia, l'influenza dell'inglese, e l'inglese, i quello, o cosa c'è? Non, ma ti sono le mie a me, perché io ho detto che, se stanno l'influenza dell'inglese e dell'inglese, a fare così, quando uno ha chiesto una parola, una parola con una parola, una parola con una parola in francese, un parola con una parola in inglese, perché hanno avuto un urologismo, di cerere che, la chiede, ma quando la parola existe, se lo metto una vosteprata non sono più d'accordo. Perché qui c'è una prova che c'è una certa ignoranza della lingua. Justamente, ciò che vedete qui, vedete i giorni qui in Tarro, chi parla, già parla a noi gorsi, se le parla a noi gorsi, parla a noi retta di qui o no? Parla a noi retta di qui, quando ci ritroviamo un concerto pubblico. Mamma, se mettete tutti i giorni a cantare, a cantare, chiederà l'innè, beh, da fare. In Tarro è usato di nuovo pareti ditti e proerbi che facciano anche la ricchezza della lingua gorsi in generale. Se espressioni esistono usanti in altri luoghi di Gorsica, ma di volte sotto un'altra forma. C'è un'altra forma, quando ho detto il paesano che si vuole nei miei capelli, c'è una nuova amicizia, quando c'è uno che pone urano, in principio a quello che faccio un lavoro, che si prega, è riusciuto a fare così. Quindi, quando ho detto il paesano, se volete male, si prega il vento sardo e parte di mare. Perché il vento sardo? Il vento sardo è il siocco. E la parte di mare è la ciscuita, che assufocca le piantine. Dunque, se potete staffare quando ti è piantato la piada, non hai da raggiungere nulla. Noi, a Lingua Gorsa e a Zoharietà Sutanac, li pregheremo piuttosto un tubo, che i campesi non tornano a cent'anni e ancora di più. Grazie a tutti.